Cosa sta? No, guarda, mi chiamo... Qui sta vedi? A già orani... E chi deve dare l'ucolina? Che vedi? Ah, non ci sono due l'ucolina. Ah, non... A scola, non ci vediamo sempre su a già orani. E... E lo fio lo scopo, no? No, non vediamo. Da come va a voi che gli ha orani? E andate a scola. Da come va a voi che gli ha orani? 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 No, come va a voi che gli ha orani. Giro da un lato... E abbiamo girato una vicina sull'ucolina. Questo così... Da quando è che era un po' Giro... E poi ci va a stare fino... E poi ci va a stare fino... Poi è un'altra cosa... Quindi siamo già... Sì... 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 Nel cantiere... Nella cantina... Sì... 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 E questa è realtà... E... Fette... Grazie a tutti Cammelo cacareato Ma ieri come l'avete fatto? Ieri come l'avete fatto? Senza la capola La rima è quella Oh mamma Oh ma Sono di pe Sono di pe Spiega quello che hai fatto che non è stato ripreso Spiega Non ho preso il caffè oggi Spiega Si vede che non hai preso il caffè Quando eri a casa mia eri morto Minchia Proprio a dormire sempre Pizza Ma lui la mattina si sveglia Non è che si prende il caffè che ci vuole 10 secondi Mangia che ci vuole di più Ma mangiare non lo abbandona mai Cazzo di scemo non mangio Mangiare e dormire mai lo abbandona Infatti è 200 kg e dormi sempre Un panda Un vero panda Minchia ti devi tatuare un panda sulla schiena Ma non c'è da volare coppare Dormi Mi fermo un po' un secondo Guardi cosa è morbido Devi guardare nella telecamera che sono i miei occhi E' la scuola Così questo c'era Oggi stiamo festeggendo il compleanno di melogambria Grazie grazie ragazzi Non siamo più pitare a parlare davanti a telecamera Ti mangiare uno da tempi immemori Ma è con le verdure Poi non lo si incazza Hai detto un fritto Ma fritto come la mia Ho detto fritto con pasciutto O no E' così era fritto Guarda che è un fritto Dai che pare la verdurina Guarda che cosa sapete questa città messia se ne vedo dove Chi l'ha fatta Fa schifo è amaro Non fare vedere la marca della birra Se vogliono ci devono pagare Per farlo uscire Ma che pare va la verdurina Praticamente E' da quando abbiamo costruito i mobili Che non facciamo più un diario di bordo Tipo a livello proprio di studio I mobili Quindi ora magari vi facciamo vedere come è venuto finito Da pavimento Sì però dopo abbiamo fatto i mobili Qualcosa di impianto elettrico che c'è? A me me l'avevo avuto Non so se l'avevo scelto Io forse l'avete visto ai tempi Eh? Perché? I primi dieci vlog Vlog Baby la Messina Bella Messina dove ci sentiamo Per i soldi Ho fatto l'altro Scusa ma sempre Allora vorreste parliamo sempre Dello studio fisico E mai delle novità Ah che ti dici? Io lo dico Che te ne ho capito? Non lo capisco Allora dici che abbiamo aprito tutto Lo studio Adesso lo abbiamo a terra Tutte queste cosine qua Perché domani Perché domani c'è il casting Ah vero? Per il nostro nuovo film Però questo penso esce dopo Sto diario di bordo Vabbè Per festeggiare domani c'è il casting L'arancino O il pidone Pidone Ma sono il pidone Non porto C'è un pochissimo Mi sono preso tre pezzi Non sapevo che mi dovevo prendere E me ne sono presi tutte e tre Cioè a me mi ricordi il pidone E' un palermo di merda Ma dove hai detto pidone Prenditi questo E mi vuole l'arancino Prosciutto è quello Sicuro Vabbè poi le puoi prendere Quello è sicuro prosciutto Ma le metto l'altro Le prendiamo l'altro Minchia Oh è finita il compleanno La festa di compleanno è finita Questo è l'arancino Oh Guarda sopra che bello Io stasera Stasera mi aspettano Due uova Un bianco d'uovo Un bianco stravazzate E con un bel Verdure Broccoli e cavolfiore Allora Sopra Lo avete visto mille volte Ma mai così Non è vero Infatti Adesso abbiamo il divano Apri le luci Che No Perché no Il divano che è disordinato Con la del tavolo di 3 omi e la radio Adesso l'abbiamo convertito in tavolo di servizio Piccola scrivania portatile La pianta che cresce Questa è la mia piantina Uno due tre L'altro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Wow È scena una foglia E niente Salutiamo Guarda c'è pure tipo questa situazione qua Nuova Che io da qua Con delle scale Posso arrivare fuori E pensate un po' C'è pure la lampadina Va bene Va bene Cinque minuti E nove Dieci Il 29 dicembre E abbiamo fatto la scena di un video Stop Che è successo?